Buonasera, ebbene sì, Montegranaro ci aveva provato, aveva infatti provato ad uscire dalla dominazione del comune di Fermo. Ciò era avvenuto nel 1229, quando le truppe imperiali del duca di Spoleto erano arrivate nel Fermano, ma poi le cose andarono male ed il calvinale Suddiacono sentenziò che il paese doveva ritornare ad essere uno dei castelli di Fermo. Però i montegranaresi non si arresero, infatti da allora passarono pochi anni e dopo appelli e suppliche il rettore della marca concesse la sospirata autonomia e Montegranaro finalmente divenne libero comune. Ciò accadde nel 1237 e tali indicatore temporale si rileva solo da una serie di notizie collaterali ed altre simili circostanze, ma non si è mai ritrovata la specifica deliberazione del rettore della marca. È certo tuttavia che inizialmente alla comunità montegranarese non fu concesso il privilegio di eleggersi il potestà, ossia quell'autorità che aveva il potere esecutivo di polizia e giudiziario e che per motivi di imparzialità doveva necessariamente essere un forestiero, ossia estraneo alla comunità che amministrava. Come curiosità vi dico che uno dei primi potestà che ci furono assegnati nel 1265 fu Lorenzo Tiepolo che tre anni dopo divenne doge di Venezia. Ritornando ora alla nascita del libero comune di Monte Granaro, in assenza del relativo decreto, la prova documentale della sua autonomia è una piccola e malandata bergamena ancora conservata all'archivio di Stato di Fermo. Con quel documento, il 6 maggio 1251, il legato apostolico della marca d'Ancona chiese alle comunità di Civitanova, di Monte Cosaro, di Monrovalle, di Montolmo, di Monte San Giusto e di Monte Granaro di rispettare e difendere i diritti della chiesa di Santa Maria a pie di Chienti. Il cardinal legato non avrebbe mai fatto, né avrebbe mai potuto fare, una simile richiesta se Monte Granaro fosse ancora stato uno dei castelli di Fermo e non libero comune, che come tale fu infatti sempre partecipe dei parlamenti della marca d'Ancona. Una volta ottenuta l'autonomia, il paese, al pari delle altre libere comunità, fu soggetto al pagamento dell'annuale censo alla Camera Apostolica, in porto fissato a 100 libri di Ravennati, somma questa che denota anche a quei tempi una certa prosperità della comunità granariense. Solo nel 1290 Pabano incolò IV, che era originario di un paesino vicino Ascoli, ci concessi il privilegio di eleggere il Podestà e gli ufficiali, dietro l'annuo censo di 76 libri di Ravennati. In quello stesso anno, questo è doveroso che ve lo dica, il comune di Macerata invitò chiunque volesse studiare le leggi ad andare presso lo studio di Dominum Giulioso Conventati di Montegranaro, perché avrebbero trovato un'ottima scuola. Si trattava della fondazione dell'Università di Macerata ed il giurista e docente di cui si parla era appunto Giulioso Conventati, dell'omonima e nobile famiglia montegranarese. Allora, sul neonato libero comune di Montegranaro c'è ancora tantissimo da dire, come era strutturato, i parlamenti provinciali a cui partecipò, dove era la sede del comune, ma di questo parleremo in seguito. Vorrebbero a questo punto almeno solo accennare a un argomento molto molto importante, sul quale sicuramente ritorneremo in seguito. Mi riferisco agli statuti, che altro non erano se non le leggi civili e penali valide esclusivamente nel territorio di Montegranaro. Se non fosse praticamente impossibile, vi leggerei uno per uno tutti i 470 articoli che lo compongono, scorrendo i quali si entra direttamente nel modus vivendi della comunità montegranarese di 6-7 secoli fa. Ci torneremo presto, ma per incuriosirvi vi leggo alcune di quelle disposizioni dette rubriche. Sulla pena per chi lava vicino alla fonte, sulla pena per chi dà erba agli animali sulla via pubblica, che ciascuna casa della terra di Montegranaro debba avere un piccolo orto, che tutte le cose da vendere siano portate a vendere nella piazza del comune, sulla pena per chi ritiene entro la terra capre, porci o pecore, sulla pena per chi riposita immondizia a viacenze delle mura del comune. Infine, questo articolo un po' particolare riguarda il fatto che se uno, essendo stato picchiato per primo, a sua volta percuote chi lo ha percosso, non è sottoposto ad alcuna pena. Semplicemente stupendi questi articoli. Tuttavia, oltre a ciò, viene spontaneo chiedersi, ma mentre Montegranaro, nella prima metà del XIII secolo, otteneva l'autonomia, c'è qualcosa di particolare da raccontare su ciò che accadeva in paese? Non qualcosa, ma moltissimo. Una cosa sola per tutti. Prima dell'autonomia del 1201, in un luogo allora piuttosto lontano dal paese, viene fondato il convento delle monache di Santa Margherita del Cretaccio, che poi viene trasferito dentro il paese, che poi viene soppresso e trasformato in ospedale chiamato di Santa Margherita, ospedale che poi viene trasferito vicino alla chiesa di Santa Maria in Montaspice, che poi viene annesso al grande ospedale romano di Santo Spirito in Sassia, ospedale di Santa Margherita che era ancora operante nel 1788. E poi che furono fondati altri tre monasteri, altri due ospedali, ce ne sono ancora tante, ma tante, di cose da raccontarvi. Arrivederci, allora alla prossima pillola.